Allora, adesso spiego come, spiego velocemente come potremo. I giocatori, adesso, ma, ma, master, estrarrà numeri casuali da 1 a 4. I giocatori del girone A saranno il numero 1, i giocatori del girone B saranno il numero 2, il girone 3 saranno il numero 3, il girone, il girone B saranno il numero 4. Sì, è stato.